I carabinieri di Sala Consiglina hanno eseguito in tutta la provincia di Salerno un'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di otto persone facenti parte di un sodalizio criminale attivo tra la piana del Sere e il Vallo Didiano, dedito al rifornimento e allo spaccio al dettaglio di sostanze stupefacenti. Il provvedimento scaturisce da un'articolata attività investigativa coordinata dalla procura della Repubblica presso il Tribunale di Lago Negro, che ha ricostruito gli assetti organizzativi e i vari ruoli tenuti dai singoli indagati, documentando centinaia di episodi di spaccio, sequestrando un chilo e mezzo di droga, ricostruendo nel modus operandi e i depositi e i canali di smercio.